presto azio supera il ponte io ti coprirò non prende più aspetta qui con te vai all'isola tiberina lì troverai macchiavelli sta aspettando e tu cosa farai qualcuno deve stare qui a distrarre le guardie torna tutto intero o non potrò mai perdonarmelo va avanti prendete quel vestido bastardo ora andiamo colpite questo è troppo non 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 Colpite! Ora, andiamo! Cosa è stato? Presto, rientrare al castello! Ora! Ora, andiamo! Prendetelo! 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 Prendetelo!